La cultura che dà la sveglia alle coscienze. Noi abbiamo la responsabilità della cultura e la cultura è responsabilità. Allora è fondamentale non dimenticare, parlando di cinema, tre parole che cominciano sempre con la C. La prima è il bisogno di conoscenza, cultura. La seconda dalla conoscenza scatta la consapevolezza e dalla consapevolezza deve scattare dentro di noi la corresponsabilità. Metterci in gioco come cittadini, cittadini veri, cittadini responsabili, non cittadini che vivono di emozioni e poi tutto finisce, ma cittadini che si assumono la propria parte di responsabilità, la C. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento. La cultura è fondamentale.